ragazzi stiamo arrivando i coyotes un programma musicale di intrattenimento a cura di franchino ganci e paolo di bella e ma scusa perché i due coyotes io sono più scusami e quindi dovrei essere io eh sì certo tu sei più coyotes di me è chiaro voglio dire fra i due è che è normale che tu sei coyote se sono più ma ma franco scusa io pensavo che due coyotes is meglio che one ma c'è ma no ma figuro ti fidati sei tranquillo scusami tu sei coyote se sono più ti fidati però però ma tu dal 14 ottobre tutti i lunedì mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13 30 circa solo su ap web radio per partecipare o intervenire in trasmissione chiamare lo 0924 527 992 oppure componete il 377 999 3064 però fra io io non lo so se posso venire ogni volta ma come non lo so vieni qua un attimo che devo dire una cosa sicuramente potrò venire ogni volta che tu vorrai visto bravo così si fa ciao ragazzi a presto adesso posso andare all'ospedale sì 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 un attimo che finisco l'opera questo me sa Grazie per la visione! Grazie per la visione!